Amici, lo scorso episodio di Scribble.io, che tra l'altro era il primo episodio di una lunga serie, forse, vi è piaciuto tantissimo. Tra l'altro mi avete avvertito che si trovano un botto di fake tipo di FabiJ, di Stepney, di tutta la gente che l'ha fatto, anche di Lion mi avete detto. E infatti noi lo scorso episodio abbiamo trovato tipo FabiJ, Stepney, da Supreme. Totalmente a caso. Chissà chi troveremo in questo episodio, non lo sapremo mai, a meno che, a meno che, non guardiate il video fino alla fine, Nel dubbio invito a lasciare un piaccio, un commento, condividere il video, fare tutto quello che volete e soprattutto, soprattutto, entrare nel server Discord, che c'è il link in descrizione, così la prossima volta organizzo una partita insieme a voi, sì, esattamente voi che state guardando questo video. Però, per oggi, andiamo a trovare i fake Lion e i fake Stepney. Non che ci sia da lamentarsi, ma iniziamo. Allora, siamo entrati in una lobby, ci hanno buttato al terzo round, perfetto. Peppa Pig. Cioè, arrivo, indovino subito, Sbam, subito la dub per noi. Vabbè, questo qui che scrive anche Peppa, giusto? Nico, non puoi non indovinarmi. Nico! Però che brutto che mi fanno entrare in un round già iniziato. Mmm, vabbè. Vinceremo la prossima partita. Questo diciamo che è il riscaldamento. Un po' il riscaldamento. Nico, ah ma mi sa che è FK il signor Nico, eh. Credo proprio che sia FK. Allora, prossimo disegno. C'è un bel po' di lettere. Allora, mi sembra tipo una forma a mo' di... No, ok. È un essere umano. Sembrava una montagna, cioè immaginate. Qua mi dicono gonna, ma non credo proprio che sia gonna, anche perché c'è il doppio delle lettere. Ma ok, va bene. Mmm, sapete che non ho idea. Ah, tra l'altro, anche voi, ovviamente, nei commenti scrivetemi quante ne avreste indovinate. Si è aggiunto anche il signor Nico. Se n'è andato. Ok, va bene. Mmm, non ne ho idea. Ah, addominali. Addominali. Yeah. Oh, è stato bravo, però. Ah, quella sarebbe la tartaruga. I degli addominali. Ok. Va bene, però dai, è stato bravo. Bene, bene. Ha finito il round. L'ho indovinato solo io. No, l'ho indovinato in due. Anche Antonio, mi sembra. O l'altro. Non lo so. E sono arrivato quarto. Ma ci sta. Siamo entrati alla fine. Quindi io direi di startarcene subito un'altra. Se la starta da sola. Round uno. Perfetto. Siamo sempre i soliti quattro. Siamo sempre i soliti quattro. E devo disegnare io. Allora, Ferrari non la so fare. Petardo ancora di meno. Sgabello. Sgabello. Allora, datemi il marrone. Devo fare. Tech. 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 Poi è una cosa così. Ah, già. Per chi non avesse visto il primo episodio, non so disegnare. Proprio totalmente non sono in grado. Quindi potrebbero insultarmi tranquillamente. Questo è il dorso dello sgabello. E sembra più una culla. Insetto fungo cavallo. Perfetto. Come faccio a fare uno sgabello? Dai, oddio, non sono in grado. Non sono capace. Cancella tutta. Dai. Sedia quasi. Quasi sedia. Dai, che c'eri quasi arrivato. Come faccio? Allora, questo è il tavolo. Giusto? Oddio, ma io proprio con i disegni non sono totalmente capace. Cioè, io in arte avevo zero, eh. Idraulico. Ok. Tavolo. Bravo. E per sedersi al tavolo c'è... Ok, uno si è suicidato. Dai, non sono in grado. Scrivo. Scrivo. Sgabello. Eh, niente. Cioè, dire che faccio pena sarebbe riduttivo. Faccio molto schifo. Mettiamola così. Allora, cosa ci sta a disegnare? Ho un incudine. Ah, trofeo. Trofeo. Sì, trofeo, 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 trofeo. Trofeo. Bravo, ma... Allora, a indovinare son bravo, dai. Cioè, ci sta. Vaso. Ok. A indovinare son bravo. E il fatto di disegnare... Cioè, lui è stato bravissimo, eh. Cioè, io non... Ecco, questa cosa non l'avrei mai fatta nella mia vita. Proprio nella vita delle vite. Purtroppo, aggiungerei. Bravo. Complimenti. Cioè, sono stato l'unico ad aver indovinato. O, meglio, eh. Cioè, non è che io mi stia lamentando. Però, però, dai, era facile. Era facile. Prossima domanda. Vediamo, vediamo, vediamo. Comunque non vedo l'ora di giocarlo con voi. Perché è molto divertente. Ho giocato in tanti. Quindi, fatemi sapere se anche voi volete giocare. E soprattutto, se si può giocare, tipo io da computer e voi da cellulare. Non so se si può fare. Scrivetemelo nei commenti. Ora, questo mi sembra una testa. Un corpo umano, sì. Con i capelli. Ehm... Non saprei. Vabbè, facciamo il classico capelli? No. Castano. Castano. Castani. No. Ah, la cosa, la... Oddio, come si chiama? La collana. Fino mi veniva la collana. La collana. Giusto? Ah, sì, verde. È uscito verde, ma non avevo letto il coso. Eh, è stato... Cioè, è stato bravissimo, comunque. Bravo. Chi è che non... Brumotti. Brumotti. Come fai a non indovinarmelo? Oh, sono io. Parasole. Non lo so fa... Dai. Dai, ma come faccio a fare una roba del genere? Facciamo sputo. Questo è, in teoria, un uomo che sputa. Così, questo è il gesto di sputare. Tra l'altro è un uomo che fa l'occhiolino, se notate. Vorrei fare la mascherina, però non sono in grado. Fide, ma faccio schifofesa a disegnare. Potrei aver scritto sputo e l'hanno indovinata, ma... Rimarrà un segreto. Cioè, dai. Come faceva a farlo sputo? È molto... Allora, è strano e inquietante. Oddio, non sto capendo, ma credo che lui abbia un'idea in testa abbastanza giusta. Ah, SpongeBob. SpongeBob. Eh, sì. The King. The King, signori. The King. Però bravissimo. Oh, quel salvo Gabby in qualcosa. È strabravo a disegnare. Bravo. Dai, non potete non indovinare SpongeBob. Eh, infatti. Pulito. Bravo. Bravo. Patata al forno. Un saluto a patata al forno. Sta scegliendo la parola. Dai, patata al forno, sceglila bene. Oh, patata... Guarda, già c'hai una faccia un po'. Sceglila bene. Patata al forno. Sceglila bene. Ah, ok. Allora, ero uscito da quella lobby perché eravamo rimasti in due e siamo entrati in una dove c'è Favij, uno che si chiama VGF, che è quello di Lion, e uno che si chiama Ciao. Ciao. Allora, sta disegnando il buon Favij, che so che segue sempre i miei video, e... cioè, disegnando. Scarabocchiando. E non ne ho idea, quindi mi sa che questa non la indoviniamo. Andiamo avanti. Uh, tocca a me. Cioè, come faccio a fare un tucano o un tacchino? Che è stato uno scioglilingo, un tucano o tacchino. Allora, punti, facciamo il mega tabellone. Tec, tec, dai che questo è già più fattibile. Tec, 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 ti... Oh, guardate che bella linea dritta! E qua facciamo tipo... Primo posto tipo dieci. Dai! Mi sembra una buona idea. Podio quasi? Quasi podio? Quasi numero? Dai, so che ci possono arrivare. Tipo, cosa posso fare qua? Qua ci faccio questo, qua ci faccio la gente. Non saprei cosa fare di più. Dai, primo posto dieci punti. Secondo posto cinque punti. Dai! No, non potete non indovinare. No! Ho fatto del mio meglio! No! Credo che siano finiti i round. Eh, io sono arrivato ultimo. Dai, come ho fatto arrivare un... Basta, signori, ma mi dissocio completamente. Chiudo tutto, via per sempre. Spero che questo video vi sia piaciuto. Non è durato, credo, più di tanto, ma non lo so. Non ho controllato la registrazione. Vi invito ad entrare nel server Discord affinché possiate giocare con me sia questo che altri giochi o comunque fare tutto quello che volete, signori. Vi ringrazio per la visione. Vi do appuntamento domani, al solito ora avrò due e un quarto per questo periodo estivo con un nuovo video. Ciao! Dai, ultimo sono arrivato! Che imbarazzo! Che imbarazzo!